Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo una ricetta antica romana, un caccia di sabore che si chiama Libum, un termine che significa offrire. Libum era una città di rituale tradizionalmente preparata da popolazioni antiche latino durante alcune festività del anno. Iniziamo con gli ingredienti, necessitiamo il pezzo, la farina bianca, l'occhio e poi le levi di Bailorelle. Le levi di Bailorelle e le borri sono usate in cucina antica romana. Abbiamo usato le levi di Bailorelle, ma potete usare le levi di dito, non perdono troppo freddo. Prima c'erano il pezzo per aiutare a riposarlo nel mortaio. L'autore non ci dice che tipo di pezzo bisogna usare. Abbiamo scelto un pezzo di caccia, ma anche i pezzi e il pezzo di caccia che avevano usato in casa antica romana. La ricetta specifica per riposare il pezzo nel mortaio. Questo dettaglio suggerisce usare un pezzo non troppo freddo. Se usate un pezzo sofferto o ricotta, potrete ottenere una ricetta deliziosa in ogni modo, ma un po' differente da quello che l'autore aveva in mente. Questa ricetta è parte dell'agricoltura dell'agricoltura di Cato, scritto nel secondo secolo, prima dell'era comunale. Questa caccia interessante è stata descrittata anche da altri autori, come Ovid, principalmente nel contesto religioso, dove era usato come un ritorno di ritorno preparato per onorare diversi dottori durante le festività annuali. Ora mischiamo il pezzo con la farina. L'autore ci dice di usare la farina bianca bianca. Cato ha scritto di usare un po' di farina per due po' di farina e un uomo. Adesso aggiungiamo la quantità degli ingredienti per fare un libum che si tratta il nostro caccia di cucina. Questa è l'unica ricetta di libum che ha survived, ma ci sono molte ricette diverse per questo caccia di caccia, ampiamente usata in Roma antica. Adesso aggiungiamo l'occhio con la farina e aggiungiamo un po' di farina se la farina è troppo semplice. Il poeta Ovid descrive un libum creato con la farina offerta a Vesta e un libum offerto a Liber, un Dio identificato con Bacchus. In questo caso l'unica libum è mancata calda con onor, uno dei alimenti stabili dell'antiquità, che dice che il mito è stato scoperto da questo Dio. Il caccia di caccia è scoperto tra l'unico e il Dio stesso Dio che riceve questa parte. Virgil anche menziona il libum come un offerto a Priapus, accompagnato con il milano. Il pavimento è molto semplice, con la farina di lavoro e si sposta il libum. Considerando il pavimento del caccia che l'autore suggerisce e il tipo di pasta, abbiamo eseguito una forma non troppo profonda per farlo semplice. Posizioniamo le letture di bollino e prepariamo molto l'album. L'autore di questa ricetta spesso usa le letture di bollino sotto pane e cacchi che daranno un sapore fragrante e aromatico all'album. Poi copiamo l'album con un testum. Posizioniamo il cacchi sul top e sotto il testum e prepariamo l'album per 20 o 30 minuti, a dipende dal sizeo. Il testum era una sorta di oven portabile con terracotta, era quello che usavano nella Roma antica, per cuocere pane e altri alimenti. Abbiamo moldato il nostro testum, copiando gli artefatti archeologici, ma puoi anche usare un oven regolare per cuocere questo cacchi. Serviamo l'album caldo o ancora caldo. Questo semplice ma flavorful l'album è un modo delizioso di provare uno dei prodotti più tradizionali nella cultura romana antica. Se siete interessati a prodotti e sapori antici, o siete solo cercando delle ricette inusuali e deliziosi, iscrivetevi al nostro canale. Al prossimo episodio Grazie 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 Grazie